Ok, andiamo avanti, pkq3 la mano sale in questo modo molte persone guardano semplicemente la parte finale del movimento ma non a come si arriva alla parte finale ma in realtà tutto succede prima questo è dove c'è l'impatto se voi colpite una palla di sotto e qua non è che viene la, sulla parte finale quindi anche quando facciamo un pugno non dovete focalizzarvi sulla parte finale questo è solamente dove vorrei arrivare l'impatto viene prima quindi tutto quanto deve avere l'impatto in questa zona qua in questo modo il movimento va da gocchè poi c'è asciutto ok, quindi lui va a finire questo ho provato ad ottenere questa mano e poi andando a fare il movimento cercherò di portare la mano fino qua su e poi andando a fare il movimento cercherò di portare la mano fino qua su e quindi io voglio che la persona lo spazio la persona si sta sbagliando e per quel momento non dovete colpire l'impatto quindi mentre l'impatto in questo arriverà in questo ok ma c'è ancora per due di più se questo non risolvete questo lo posso portare a portare questo fa sì che apra quel punto lì questo è come una luce rosso lampeggiante che dirà tutti i simili ok